All'interno c'è un archivio storico diplomatico in cui sono conservati i manoscritti dalla fine del XV al XIX secolo e reperti archeologici che testimoniano la presenza greco-bizantina nel Cilento. Il pezzo più pregiato è un'icona delle Leousa, proveniente dal Palazzo Imperiale di Costantinopoli. Oggi però quel piccolo museo, che ospita un pezzo di storia del Cilento e porta il nome del suo oggetto più prezioso, Leousa, rischia di chiudere i battenti. Non ci sono neppure i soldi per pagare la corrente elettrica, denuncia il direttore Osvaldo Marrocco. Il museo si trova in una struttura seicentesca. Siamo giugno ad un punto di non ritorno, aggiunge Marrocco. Siamo una realtà riconosciuta dalla regione, dal parco e anche dalla Curia. Nonostante questo, noto un clima di indifferenza generale. L'eventuale chiusura rischierebbe di far perdere un patrimonio inestimabile. L'intero complesso, aperto nel 99, comprende un archivio ed una biblioteca dedicata alla storia socio-religiosa del Cilento antico. La sezione più importante conserva una serie di manoscritti che vanno dalla fine del XV al XIX secolo. Tra i volumi oltre 400, vi sono anche due incunaboli e due cinquecentine. Il museo inoltre raccoglie testimonianze della presenza greco-bizantina nel Cilento, successiva alla caduta di Costantinopoli nel 1453. Spicca l'icone Leo Usa, il pezzo più pregiato del museo. Piuttosto consistente anche la raccolta archeologica, con reperti che risalgono al V e IV secolo a.C., insieme ad alcuni manufatti di artigianato locale del XVI e XVIII secolo. All'interno della struttura inoltre vengono organizzati incontri culturali. Solamente grazie allo sforzo economico del sottoscritto di alcuni amici riusciamo ad organizzare varie attività culturali, continua il direttore. La situazione ora si sta facendo davvero difficile. A tranquillizzare il direttore del museo ci ha pensato il primo cittadino di Samoro, Cilento Carlo Pisacane. Abbiamo già provveduto a fare la domiciliazione delle bollette dell'Enel presso il comune. Sembra inoltre che il vice sindaco Fernando Marroc abbia deciso di mettere a disposizione una parte della propria identità per contribuire a pagare le spese di gestione.